Il maestro di sci Cristian è deciso di candidarti alle elezioni per il collegio regionale dei maestri di sci lombardi all'interno di un gruppo denominato professione maestro. Ce ne puoi parlare? Sì, è un gruppo che è nato con degli obiettivi ben precisi. Innanzitutto ha una gran passione, ha una gran voglia di lavorare e a mettersi a disposizione di tutti i maestri di sci per cercare di risolvere quelle che sono le problematiche effettive dei maestri di sci e dei futuri maestri di sci. Come vedi il maestro di sci lombardo nel futuro? Mi piacerebbe che il maestro di sci fosse una figura di riferimento all'interno delle stazioni sciistiche, non solo per i clienti che vengono alla scuola di sci ma anche dagli operatori turistici, dagli responsabili degli impianti. Quindi un maestro di sci che sia a 360 gradi disposto a lavorare per promuovere anche la stessa stazione in cui lavora collaborando con le strutture alberghiere e con tutte le organizzazioni che ci sono all'interno della stazione. In più cercando di soddisfare quello che potrebbero essere le esigenze dei clienti che negli ultimi anni sono cambiate rispetto a una volta. Quali sono i principali temi su cui intendi muoverti in caso di elezione? Il ruolo del collegio è sicuramente un ruolo istituzionale. La prima cosa su cui andrei a lavorare insieme ai miei compagni di viaggio sarebbe quello di riuscire a lavorare cercando di contrastare quello che è il problema magari che c'è più una cosa attuale che è quello dell'abusivismo. Quindi cercare di tamponare il problema dell'abusivismo cercando di trovare soluzioni per riuscire a colmare e a arginare questo problema. L'altra cosa che mi piacerebbe fare è quella di lavorare e dare degli strumenti ai maestri di sci per elevare quello che potrebbe essere la qualità del maestro di sci e quindi la professionalità del maestro di sci andando a migliorare quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti e magari dando anche nei corsi di formazione qualcosa di veramente utile e di qualità per cercare di aiutare e entrare nel mondo del lavoro del maestro di sci nel migliore dei modi. Prendo spunto da questa tua ultima affermazione dedicata alle selezioni ai giovani aspiranti maestri. Che messaggio ti sentiresti di inviare a chi vuole intraprendere questo percorso, che è un percorso oneroso in termini di tempo e anche di investimento economico, per poter diventare in futuro un vero professionista della neve? Direi che il percorso per diventare maestro di sci è un percorso importante, è un percorso che dà poi un lavoro che se fatto con passione e dà delle grandissime soddisfazioni, deve essere proprio preso però come obiettivo e come volontà di lavoro. Mi piacerebbe le selezioni che diventassero il più trasparenti possibili, cercando di valorizzare quelle che sono le capacità dei futuri maestri di sci, non solo tecniche ma anche di comunicazione, quindi quello che dicevo prima, mi piacerebbe che il maestro di sci fosse un maestro non solo di curve ma un maestro a 360 gradi. Cristian, dopo 12 anni di continuità nella direzione del collegio, si è avvertita in modo impellente la necessità di un cambiamento. Ritieni di essere parte di questo cambiamento e in che modo? Mi piacerebbe far parte di questo cambiamento, direi che siamo arrivati ormai al punto dove bisogna cambiare qualcosa, come in tutte le situazioni, dopo anni e anni di lavoro di determinate persone, probabilmente ogni ambiente ha bisogno di idee nuove, persone nuove, per cercare non di magari di buttare via tutto quello che è stato fatto, ma di riprendere quello che è stato fatto, di migliorare per cercare di andare sempre in avanti. Un messaggio a chi ti vorrà votare? Perché dovrebbe farlo? Quali pensi siano i tuoi punti di forza? Mi piace fare il maestro di sci, mi piace il mondo della neve, sono sicuro di riuscire a dare una mano a quelli che potrebbero essere i maestri di sci ed il collegio. Ho voglia di lavorare, ho passione e se me ne date la possibilità potrei farlo. Grazie. Vi ricordo che è importante votare tutti i candidati all'interno del gruppo professione maestro per riuscire poi in un futuro avere un direttivo coeso e unito con gli stessi obiettivi, allora in questo modo riusciremo a portare a casa dei grandissimi risultati. Grazie.